Ma non ce l'ha un soprannome questo? Tipo Bubu, Bobbo, Briogol? Ma quale Briogol? Quello è Stopper! Stopper! Mi ragionevo ringraziare perché sai, non so se lo sai, ma noi... E questa qui è una fiction diversa, è più... E cioè, ti volevo ringraziare, Stopper! Si può? Avanti! Qui! Sergio Brio, il grande Sergio Brio! Tu non sai l'emozione che è per me incontrare un grande campione come te! Piacere! Ciao! Ciao, sono Rini Ferretti, il regista! Oh, ti devo dire una cosa, se c'è un campione fra tutti i campioni... Ma lo dico sinceramente, eh? Quello sei tu, veramente grande! Qualcosa mi va? No, sei perfetto, figurati! Anzi, in questa storia funziona meglio se questo grandissimo campione ricoverato, capito? E per lui, diciamo, un po' l'ultima occasione, capito? Questo grande campione, ormai è alla fine della carriera, capito? Ma tu, spesso, ma stai scherzato, sei ancora in perfetta forma! Ammazza che coscia! C'hai veramente! Complimenti! Oh, ti ho visto giocare domenica, gliela avete, eh? Ah, sì, frequenti la Teveremo! Eh? No? Perché? No, niente! Senti, sono un pochino preoccupato, perché non ho mai recitato prima! Ma non ti preoccupare, è andrà benissimo! Basta lasciarsi andare, come quando fai le tue, i tuoi slalom e poi le infili sotto la porta! Grande stopper! Guarda, ti giuro, io ogni domenica ti vedo giocare e mi chiedo, ma come fa? Ma come fai? Ma cosa? Dai, ma cosa, cosa! Non fare il modesto! Tu sei un grande, tu sei un mito! Stopper! Non si può! Come no, qui siamo liberi, capito? Non ti preoccupare, stopper! Non glielo diciamo al presidente che... Sì, 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 eh? Grande, veramente! Oh, allora senti, ci vediamo sul set, va bene? Perfetto! Eh? Dai, vedrai che andrà tutto bene! Ciao! Ciao, ciao, grande stopper! Ciao! Oh, Renato, ascolta una cosa, dimmi! Stavo pensando... Noi siamo sicuri di prima, sì? Sì, sta a me, se ti prego, però oggi non mi devi cacare il cazzo! Almeno oggi... Le sono i gravi, hai capito? Sì, sì, però adesso calmati, calmati! Ma io non mi calmo, non è che per il cazzo mi calmo! Va bene, ho capito tutto, siete tutti simpatici, è il dottore Matto, il capo elettricista col finto figlio, la signora che ha bevuto il vino, il finto regista, bravissimo! Adesso tu, questa storia delle medicine, bellissima storia, però basta, bravissimi tutti! Cioè? Cioè, vuoi che lo dico io? Sergio Brio, sei su scherzi a parte! Ma fai bravo, Brio! E ora risolviamo tutto! Amore, andiamo a portare fuori, sto malto! Allora, andiamo fuori! E portatelo fuori, forza! E non finisce qua, stronzo! E portatelo fuori! Ma davvero? Stavo su scherzi a parte?